È un quartiere unico quello di San Zeno, nella parte ovest di Verona, alle porte del centro storico e all'ombra del grande campanile dell'abbazia dedicata al patrono della città. Tornerà ad essere anche parrocchia unica, come è stato per secoli, fino al 1957, quando il convento di San Bernardino divenne anche parrocchia affidando ai frati minori la cura d'anime, che è durata quindi 63 anni. Oggi, a causa del calo generale e delle vocazioni, giuridicamente si torna a fare parrocchia unica con San Zeno. La situazione è che il provinciale dei frati minori, con il vescovo, ha detto la loro volontà irreversibile di rinunciare alla cura d'anime. Pertanto, la parrocchia di San Bernardino oggi non ha un frate parroco. Io divento, dal 1 settembre, amministratore parrocchiale anche di questa comunità, pur rimanendo parrocchia abate di San Zeno. Con il nuovo padre guardiano, padre Massimo, stiamo vedendo una collaborazione molto fraterna, in spirito francescano, perché questa fusione, questo cercare ancora di camminare insieme, sia facilitato da ambo le parti. Ricordiamo che il convento di San Bernardino, che ha quasi cinque secoli abbondanti di storia, continuerà come convento, aperto al pubblico per alcune messe domenicali, rimarrà ancora disponibile il grande servizio della mensa della carità per i poveri e ancora alcune attività le porterà avanti. Tra queste le confessioni quotidiane, le sante messe, il corso fidanzati ed altro ancora in fase di decisione. Un cambiamento che implica ai fedeli di guardare comunque con speranza e uno sguardo nuovo alla realtà che cambia e che ha bisogno di un coinvolgimento positivo, soprattutto per i fedeli laici. I laici credo che abbiano un ruolo fondamentale, visto anche il calo di vocazioni nel clero diocesano. Sappiamo come tutta la nostra diocese e le altre diocesi soffrono di questa situazione, che però non può essere vista solo come un calo di preti, ma come un impulso a far sì che le nostre comunità possano esprimere nei vari servizi quell'impegno, quel senso di corresponsabilità, di comunione, per andare avanti nel costruire su questo territorio una comunità che vive il Vangelo.